E a livello mentale ci stiamo lavorando, però alla fine la cosa più importante è godersi il viaggio. E sembra davvero banale, ma dopo quest'anno posso dirvi che se non ti godi il viaggio, se non ti godi gli allenamenti, e non dico che bisogna godersi di tutti, c'è sempre un allenamento che fa schifo e che non vuoi fare, però se non te ne godi neanche uno e se ogni cosa è una sofferenza, il risultato non arriverà mai.